Più trasparenza negli appalti e più controlli nei cantieri delle SAE. Questo l'appello della CGL Macerata che ha lanciato l'allarme per la condizione lavorativa degli operai impegnati nella costruzione delle cosiddette casette di legno dopo il sisma del 2016. Due in particolare i casi più gravi resi noti questa mattina durante una conferenza stampa d'ampio raggio sulle soluzioni abitative d'emergenza convocata da Massimo De Luca, segretario provinciale Fillea, e da Daniel Taddei, segretario generale della CGL Macerata. Quei lavoratori ormai non ce la fanno più perché oltre che lavorare sette giorni su sette ci sono state situazioni veramente da denuncia immediata e cioè un lavoratore che si fa male in un cantiere a Ussita alle 10 del mattino e viene portato non in ospedale ma nella propria baracca solo alle 18 di sera. E la semplice fortuna che un funzionario della CGL era lì a espletare il proprio lavoro, cioè quello di parlare con i lavoratori in cantiere, venuto a sapere della notizia, l'abbiamo accompagnato in ospedale. Oltre questo ci sono lavoratori che lavorano 10 ore al giorno, 6 giorni su 7, tantissimi 7 giorni su 7 e le retribuzioni sono nemmeno la metà di quelle previste contrattualmente. A molti viene applicato contratti diversi, contratti che costano meno. Ebbene tutto questo ci fa ancora di più reclamare con forza il famoso DURC per congruità, sperando che nei prossimi 10 giorni i soggetti chiamati intorno al tavolo dal commissario possano raggiungere l'accordo e far sì che almeno per l'inizio della ricostruzione ci sia questo benedetto documento per congruità. Di fatto vediamo replicati i subappalti, da un appalto iniziale dato a un consorzio, poi vengono istituiti altri consorzi e addirittura dei contratti di rete. Questi contratti di rete sono meno trasparenti rispetto ai consorzi normali. Abbiamo visto, oltre a questo caso di un ragazzo infortunato e abbandonato a se stesso, noi ci siamo fatti carico di portarlo al pronto soccorso, di stipendi non pagati, stipendi in arretrato. Abbiamo iscritto lavoratori che poi non risultano nella cassa edile, decine e decine. La situazione è molto grave. E' per questo che, siccome stiamo parlando dei cantieri dell'emergenza, la vera e propria ricostruzione ancora non è partita, siamo particolarmente preoccupati per quello che potrà succedere dopo, in quanto l'importo delle opere è notevolmente superiore e potrebbe essere ancora più facile raggirare le norme che già denunciano qualche debolezza. Noi abbiamo dovuto fare questa conferenza stampa, rappresentare questa situazione, proprio perché ci sono questi lavoratori che ancora stanno nel campo base e dobbiamo assolutamente tutelarli, come tutelare tutti gli altri lavoratori che stanno in queste condizioni. Noi ci auguriamo che i cittadini che da più di un anno aspettano di ritornare nelle proprie casette ritornino nelle casette ma fatte a regola d'arte.